E' importante la delibera provata all'unanimità dal Consiglio regionale sul cambio del nome di Negrà, richiesto dal Comune, in Negrà di Valpulicella. Sappiamo l'importanza di questo territorio per storia, cultura, economia, per cui veramente l'abbiamo votata all'unanimità perché è un segnale di vicinanza al territorio. Tutti conoscono la Marone, ma conoscono la Valpulicella, per cui l'importanza che diamo al Comune di Negrà, ma a tutta una zona che è uno dei fiori locchielli della nostra regione. Fieri di questo voto, sperando che adesso i cittadini lo confermino, perché è importante legarci a quello che è il nostro patrimonio storico, artistico, culturale e una delle posizioni migliori conosciute a livello internazionale. Grazie a tutti.